A Venezia per Pasqua arriva il tutto esaurito negli hotel. Ecco il primo vero momento di ripartenza e tra Pasqua e la Biennale la città si pronuncia sold out per le prossime due settimane con presenze turistiche molto qualificate da tutto il mondo. Così la città riprende vigore. Sembra di essere tornati ai vecchi tempi. È il primo momento probabilmente in cui Venezia si riprende dopo due anni di pandemia e altri quattro mesi di orribile acqua alta nel 2019 quando i turisti erano scomparsi per la paura di uno tsunami a Venezia. Beh, devo dire la verità che ora Venezia sta riprendendosi alla grande. Siamo praticamente al tutto esaurito per i prossimi 10-15 giorni. Pasqua, la Biennale, soprattutto la Biennale, stanno portando veramente una grandissima affluenza. La Biennale, motore e volano economico. Dobbiamo ringraziare anche la Biennale. Non cesseremo mai di ringraziare il presidente Cicutto per aver preso la decisione già nei tempi della feroce pandemia di fare la Biennale fisicamente perché questa Biennale veramente sta riempiendo la città, ma sta riempiendo la città anche di un turismo qualificato. Le incertezze per gli operatori sono a maggio. In maggio non sappiamo ne ancora nulla. Ormai l'abitudine da parte del turista è quella di prenotare il last minute. E prenotare il last minute significa che le imprese non hanno la minima idea di quali saranno i flussi turistici 20-30 giorni dopo. E quindi speriamo in bene, speriamo che questa crisi sia finalmente terminata. Ha lasciato macerie però.